Oggi chiediamo allo Spirito Santo di essere sempre sulla sua bocca. Dal secondo libro di Samuele, il capitolo al ventitresimo, il versetto il secondo, lo Spirito del Signore parla in me, la Sua parola è sulla mia lingua. Spirito di amore, oggi io consacro a te le mie orecchie perché desidero imparare ad ascoltarti e a respingere ogni conversazione o mormorazione che possa contaminarmi. Ti offro anche tutte le parole che dovrò pronunziare, compreso il modo in cui le dovrò dire. Dai commenti carichi di sfiducia e di pessimismo, liberami Spirito Santo. Dai discorsi impuri, liberami Spirito Santo. Dai giudizi cattivi e dalle critiche al mio prossimo, liberami Spirito Santo. Dalle parole aggressive, liberami Spirito Santo. Dalle frasi cariche di disprezzo e di rifiuto degli altri, liberami Spirito Santo. Dal sarcasmo, liberami Spirito Santo. Spirito Santo insegnami a mettermi in relazione con gli altri, che il mio modo di parlare sia sempre e ogni giorno di più simile a quello di Gesù, di Maria e di San Giuseppe. Amen. Grazie. Grazie. Grazie.